Cari amici appassionati di fotografia, in questo video volevo farvi un confronto tra la Pentax MX e la Pentax M Super. Sono due macchine che sembrano molto simili dall'aspetto ma che in realtà sono due macchine completamente diverse. Ma quale è meglio delle due? Ma soprattutto quale è più adatta a che tipo di fotografo? Ebbene, andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le differenze tra queste due macchine fotografiche e quale fa di più al caso vostro. Allora, beh, io direi di iniziare subito. Allora, innanzitutto la Pentax MX è uscita prima, è una macchina più professionale, è stata presentata nel 1976. Invece la Pentax M Super, che è un'evoluzione a sua volta della Pentax M, è stata presentata nel 1979. Questa però si tratta di una macchina un po' più entry level, ovvero di una fascia per amatori e non per professionisti. Allora, iniziamo a parlare con la differenza principale, ovvero questa è una macchina meccanica, mentre questa è una macchina elettronica. Quindi la Pentax MX scatterà su tutti i tempi, senza batteria e senza alcun problema. Invece la Pentax M Super avrà bisogno della batteria per scattare su tutti i tempi. Quindi, molto bene, questa è una prima differenza non da poco, perché effettivamente con una macchina completamente meccanica voi potete andare ovunque al sicuro, che sia nel deserto, che sia il freddo gelido, che tanto le batterie, anche se cariche non ci sarà mai un problema se magari non funzionano per qualsiasi tipo di problema climatico. Perché questo, essendo meccanica, per qualsiasi problema elettronico non gliene frega niente, perché tanto le andrà. Invece, ovviamente, bisogna stare un po' più attenti con le batterie della M Super. Ma, detto questo, la M Super è inaffidabile? No, non è inaffidabile perché comunque ha un atturatore anche meccanico, che scatta su tre pose diverse, quindi sulla posa bimeccanica. Quindi, per chi fa, magari, astrofotografia, può essere comoda questa qui, perché scatta appunto la posa b senza batterie. Scatta un centoventicinquesimo di secondo, e molti non sanno che nella posizione auto scatta anche un millesimo di secondo. Quindi, è una macchina anche tutto sommato, anche senza batterie, a piedi a piedi proprio non vi lascia. Quindi, ben venga la M Super da questo punto di vista. Tempi di scatto. I tempi di scatto sono diversi sulle due macchine, perché la MX va da un millesimo di secondo fino a un secondo, più la posa b. Invece, la M Super va da un due millesimo di secondo, quindi abbiamo uno stop più veloce, fino addirittura a quattro secondi in manuale, per poi arrivare, in realtà, anche più di undici secondi in automatico. Quindi, abbiamo dei tempi di esposizione ben più ampi sulla M Super rispetto alla MX. Quindi, anche questo è da tenere in considerazione. Magari per chi fa, insomma, fotografia sportiva, può venire comodo avere una M Super. O per chi magari utilizza ottiche molto luminose, mi viene in mente, non so, magari vuole utilizzare un f1.2 a tutta apertura, ma a volte può fare la differenza poter scattare uno stop più velocemente. Abbiamo parlato un po' dei tempi di esposizione. Parliamo un po' di altre caratteristiche. Allora, innanzitutto, la Pentax MX è un po' più completa per quanto riguarda le funzionalità. Perché sulla Pentax MX abbiamo, ad esempio, il tasto della profondità di campo, che qualcuno magari non sa, la faccio vedere, è questa levetta qui. Se io spingo questa levetta, che è la leva dell'autoscatto, se la spingo, come vedete, si chiude il diaframma. La M Super ha la levetta dell'autoscatto, sempre meccanica, però non fa da profondità di campo. Quindi non possiamo avere un'anteprima della profondità di campo con la M Super. Un'altra cosa, la M X, come vedete qua sopra, ha questa piccola finestrella. Questa finestrella è un periscopio che va a leggere direttamente i diaframmi. Quindi noi quando guardiamo nel mirino, oltre a vedere i tempi selezionati, che li vediamo appunto nel mirino a fianco, possiamo vedere anche il diaframma selezionato. Quindi senza togliere l'occhio, possiamo avere un controllo sia su tempi che su diaframmi. Sulla M Super invece vediamo soltanto i tempi selezionati e basta. Quindi niente diaframmi qui. Un'altra cosa diversa che abbiamo è la possibilità di cambiare i vetrini di messa a fuoco. Infatti sulla Pentax MX, vi faccio vedere, vedete c'è un piccolo gancetto là sopra. Ecco, quel piccolo gancetto ci permette di estrarre i vetrini di messa a fuoco e cambiarli. Quindi avere diversi tipi di schemi di vetrini. Sulla M Super questo non si può fare. E d'altronde, essendo una macchina più economica, ci sta. Però un vantaggio grosso che ha la M Super rispetto alla MX è che come modalità di scatto, la MX ovviamente scatta solo il manuale, ma la M Super oltre che scattare il manuale può scattare anche priorità di diaframmi. Quindi noi selezioniamo i diaframmi e la macchina può selezionare per noi il tempo. E questo può esserci veramente comodo, insomma, avere un automatismo del genere. Ci permette di concentrarci molto di più sulla messa a fuoco, concentrarci sulla composizione e non star lì a calcolare anche il tempo necessario. Perché a volte magari non ci serve avere controllo anche sul tempo. Quindi ben venga l'automatismo che c'è sulla M Super, cosa che non c'è sulla MX. Molto bene, poi per quanto riguarda le dimensioni io vorrei avvicinarmi un attimo e farvele vedere più da vicino. Ecco qui una accanto all'altra, le due macchine fotografiche. Come potete vedere la M Super è leggermente più alta della MX. Quindi direte, è più grande? No. Perché se noi le mettiamo una accanto all'altra, guardate, vedete? La MX è più larga della M Super. Spero di entrarci dentro l'inquadratura. Ok? Ma questo si vede anche un po' dalla costruzione. La M Super è più stretta, è più stretta e più alta. La MX invece è più bassa e più larga. Ecco. Quindi esteticamente cambiano in questo. Qual è più bella da tenere in mano? Secondo me sono belle entrambe. Questa è comoda perché la levetta dell'autoscatto è qui in alto. Quindi avete un'impugnatura, insomma, più comoda. L'MX è vero che ha questo qua un po' più in basso, però anche un po' più larga. Quindi, di fatto, secondo me sono comode entrambe allo stesso modo. Magari come sensazione è più bello il tasto metallico che troviamo sull'MX rispetto al tasto in plastica che troviamo sull'M Super. Magari è più bello l'otturatore meccanico, sentite. Magari è più bello un po' l'otturatore meccanico rispetto a quello elettronico. Però, come sensazione, devo dire che sono molto belle entrambe. Un'altra cosa che cambia è appunto il tipo di otturatore stesso. Ora ve le giro e ve le faccio vedere. Quindi vi apro una e vi apro due. Eccoci qua. Come vedete abbiamo due tipi di otturatore diverso. La Pentax MX ha un otturatore di tessuto a scorrimento orizzontale. Vedete? Invece la Pentax MX Super ha un otturatore di tipo verticale in metallo. Il fatto che sia verticale ha meno corsa da fare, gli permette di fare il duemillesimo. Però, vabbè, abbiamo visto che ci sono parecchi otturatori a scorrimento orizzontale che fanno il duemillesimo. Come la Nikon F2, come l'Olympus UM4 o UM3. Comunque, come robustezza, dovrebbe essere più resistente ovviamente questo qua in metallo. E posso confermare. Nonostante sia robustissimo l'otturatore dell'AMX, però devo dire che ogni tanto le tendine tendono a sfasarsi, tendono a... Ecco. Non succede mai con questo in metallo. Questo in metallo potete rompere la macchina, può non funzionare quello che volete, ma l'otturatore sarà sempre intero e le lamelle saranno perfette. Quindi, piccola differenza anche per quanto riguarda gli otturatori. Già che ce l'ho girato, vi faccio vedere che la Pentax M Super presenta questa finestra. Eccola qua. Questa finestra ci fa vedere se il rullino sta effettivamente srotolandosi. Quindi ci permette di vedere se la pellicola sta avanzando. La MX non ce l'ha. Semplicemente non ce l'ha. No, insomma, un piccolo dettaglio. Però ben venga averlo messo. Entrambi hanno il blocco. Come vedete la MX ce l'ha qua sopra. La M Super ce l'ha girando questa ghiera sulla L. Quindi io girando una ghiera sulla L ho il blocco dell'otturatore. Il synchro flash è un'altra cosa che cambia. Quindi per chi utilizza parecchio il flash è importante perché abbiamo un sessantesimo di secondo sulla MX. Abbiamo un centoventicinquesimo di secondo sulla M Super. E questo può essere, insomma, fondamentale. È il doppio del tempo dell'esposizione per quanto riguarda la MX. E niente, che altro dire? Insomma, queste erano tutte le differenze tra la Pentax M e la Pentax MX. Quale delle due comprare? Allora, in entrambe io spesso ho riscontrato problemi. Perché la MX, essendo così compatta e avendo i pezzi tutti, gli ingranaggi molto piccoli, le trovate parecchie di rotte. A differenza di macchine più robuste, più grosse, la MX è abbastanza fragile. Quindi se la comprate trattatela con i guanti. La MX Super è vero che è sempre compatta, però avendo meno ingranaggi, è un po' più duratura. Sì, c'è l'elettronica che è fragile, però non ho mai trovato problemi con l'elettronica. Se non prendo umidità o, insomma, intemperie. Quindi, tolta l'elettronica, questa in realtà è più difficile da rompere. Mentre questa, avendo tutti i tempi meccanici, è facile che banalmente anche i tempi lunghi, insomma, si blocchino. Quindi per affidabilità, forse la MX Super è più affidabile. Però d'altro canto, se sono in buone condizioni, questa essendo meccanica, sicuramente non vi lascerà mai ai piedi, appunto. Perché sono ingranaggi, di fatto, cosa può succedergli? Per quanto riguarda l'automatismo, se siete magari meno esperti o siete più pigri, in tra molte virgolette, questa è comoda, priorità di apertura. Quindi, ne venga questa che è comoda da usare. Se siete più professionisti, avete un tipo di fotografia specifico, vi serve un tipo di vetro smerigliato, eccetera. Qui potete cambiargli, è più comodo. Avete la profondità di campo, chiudo il diaframma così la faccio vedere. Quindi, potete controllare anche i tempi selezionati, scusate, i diaframmi selezionati direttamente dall'oculare. Insomma, questa è una macchina molto più completa rispetto a questa. Se usate i flash da studio, io andrei sicuramente sulla MX Super, visto il sincro flash molto più elevato. C'è il tempo di sincronizzazione molto più breve. Quindi, cosa dire? Quale comprare? Io da collezionista, ovviamente, le comprate tutte e due. Ho comprato anche la versione nera, che tra l'altro, guardate qui, è stupenda. Esiste la versione nera anche della MX, sono le più rare, le versioni nere. Però costa tantissimo quella della MX, costa addirittura sui 300 euro. E qui parliamo di prezzi. Questa costa meno della metà di questa. Quindi una MX la pagate solo corpo, 150, 200 euro in base alle condizioni. Questa la potete pagare sui 70, 60 euro. Massimo 100, con l'obiettivo. Ecco, anche qualcosa di più dipende dall'obiettivo. Perché solo questo obiettivo vale almeno 40 euro. Quindi, sicuramente per quanto riguarda i prezzi, conviene prendere la MX Super. Però, nel mercato del collezionismo vale molto di più la MX. Quale consigliarvi per voi? Non lo so, dipende a voi cosa piace di più. Io, appunto, le ho prese tutte e due. Un quale scattare? Beh, se avete tanto budget, prendetevi la MX. Sicuramente è una macchina che mantiene un valore più importante e storico. Però, se volete qualcosa di un po' più da battaglia, un po' più leggero, senza pensieri, prendete la MX Super. E niente, questo era tutto per questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Statemi bene, come sempre. A presto!